Salve e benvenuti in questo nuovo video dello Scribacchino. È passato un po' di tempo, ma oggi iniziamo un percorso fondamentale su questo canale, dedicato al mondo della scrittura. Ora, in passato io ho parlato diverse volte di scrittura, ma non ho mai fatto video specifici sulle tecniche di scrittura, su il mondo, su come effettivamente scrivere, perché ho sempre pensato che fosse un modo per fare il passo più lungo della gamba. Alla fine, chi cazzo sono io per spiegarvi come si scrive? Ma, dato che me l'avete chiesto in molte forme, e dato che, secondo me, quello che ho fatto finora, ovvero leggere i vostri racconti e darvi dei consigli su di essi, è abbastanza limitato, proviamo a fare qualcosa di più. È anche l'occasione per me di studiare qualche argomento nuovo, e per ripassarlo spiegandovelo a voi, parlandone insieme, in modo abbastanza informale. Per questo, in passato, ho chiesto sul mio profilo Instagram, nel gruppo Telegram e nella sezione Community di YouTube, quale argomento avreste voluto vedere su questo canale? Dopo aver letto tutti i vostri feedback, ho preso la mia decisione di iniziare con il viaggio dell'eroe. Perché il viaggio dell'eroe? Perché una delle domande più comuni che mi viene fatta quando si parla di scrittura è come comincio a scrivere? Qual è il primo passo che devo fare quando mi metto di fronte al foglio? Quel monolite bianco è spesso un ostacolo insormontabile, il pensiero di dover affrontare un lungo percorso senza avere un punto di inizio ben specifico, talvolta può essere molto intimidente, tanto da creare il vero e proprio blocco dello scrittore. Il viaggio dell'eroe può essere un buon modo per seguire una struttura che ti possa aiutare all'inizio del tuo percorso. Inoltre, è una delle strutture narrative più famose in assoluto, quasi universale, e quindi conoscerla non fa male. E ve ne parlerò in modo abbastanza veloce, abbastanza semplice, e poi, se vorrete, faremo dei video specifici su magari vari archetipi, su magari come scrivere un mentor, come scrivere un protagonista, sulle cose da tenere in mente. Comunque, il viaggio è lungo quanto lo vogliamo. Ma prima di cominciare a parlare nello specifico del viaggio dell'eroe, vado a rispondere a una domanda implicita che quasi tutti si sono posti quando hanno scoperto che esiste una vera e propria struttura narrativa che ci può aiutare nella scrittura della nostra storia. Ovvero, devo seguire questo schema? L'idea di avere una struttura imposta, infatti, talvolta ci sembra limitante, non abbiamo la possibilità di esprimere al meglio il nostro resto creativo. E se vogliamo scrivere una storia che non ha determinati elementi o che non segue un determinato schema? Beh, la risposta più veloce è no. Non devi seguire necessariamente questa struttura. Tante opere non seguono questa struttura e non è completamente universale. La risposta un po' più lunga è assolutamente no. Lo schema che ti sto per dare, e che è molto famoso e non l'ho chiaramente inventato io, non deve essere una bria che ti deve bloccare, che devi seguire per forza di cose nel momento in cui scrivi la tua storia. Però, conoscere questo tipo di schema narrativo è un valido aiuto per coloro che non sanno da dover iniziare ed è un valido aiuto per coloro che hanno paura di creare una storia che sia incoerente o che non sia facile da seguire. Il mio consiglio è quello di imparare cos'è il viaggio dell'eroe e in seguito vi mostrerò anche un libro che potete acquistare nel caso vogliate approfondire questo argomento così da decidere attivamente quando seguirlo o quando prendere la vostra strada. È un po' come se doveste raggiungere un luogo di una città partendo da casa vostra. Potete prendere la strada che hanno già percorso tante altre persone e che quindi sicuramente vi porta verso la vostra destinazione oppure potreste prendere una scorciatoia o una strada alternativa ma se sapete in che punto della città dovete andare vi sarà più facile orientarvi. Detto questo cominciamo a parlare del viaggio dell'eroe. Cos'è? È una struttura narrativa abbastanza universale utilizzata nella scrittura, nel cinema, nel fumetto e in molti tipi di storie che ha un'origine perduta nel tempo. La forma e il nome di viaggio dell'eroe è stato dato da Christopher Campbell molto tempo fa, nel XIX secolo mi sembra e poi è stato studiato in vari modi nel corso del tempo. In particolare per questo video mi sono documentato sul viaggio dell'eroe di Christopher Vogler un libro abbastanza facile da leggere molto intuitivo e molto schematico che trovate in descrizione nel primo commento nel caso in cui vogliate leggerlo. Lo sfrutteremo ancora in futuro per le nostre analisi ma se volete averlo nella vostra libreria potete proseguire e acquistarlo. Stiamo parlando quindi del viaggio dell'eroe Il viaggio dell'eroe è fondamentalmente un sistema narrativo, uno schema diviso in tre atti Abbiamo un atto iniziale, un atto centrale e un atto finale Ora, la divisione in tre atti è ottima per capire come dividere la nostra storia e in quante pagine Infatti, sebbene non ci sia un numero specifico o obbligatorio di quante pagine devi dedicare al primo atto, al secondo o al terzo molti studiosi identificano questi tre atti nella formula di 1-2-1 Ovvero, nel primo atto andremo a dedicare un quarto della nostra storia quindi circa il 25% delle pagine Nel lato centrale andremo a dedicare metà della nostra storia due quarti, ovvero il 50% Mentre all'ultimo atto, l'atto conclusivo dedicheremo l'ultimo quarto restante o l'ultimo 25% restante Quindi, se vogliamo scrivere una storia di 100 pagine tecnicamente 25 pagine verranno dedicate al primo atto 50 pagine verranno dedicate al lato centrale e le ultime 25 alla chiusura della storia Ora, naturalmente, non sei obbligato a seguire questa numerazione però, anche in questo caso, è utile capire un pochino come dovresti dividere la tua storia e in che modo dilazionare gli eventi all'interno della tua novella mettiamola in questo modo Quindi cominciamo dal primo atto Il primo atto, chiamato anche la partenza vede come primo elemento il mondo ordinario Questo è il termine utilizzato da Christopher Vogler nel suo libro ed è il punto di partenza effettivamente della storia Ora, molte persone tendono a sottovalutare questo elemento perché si concentrano su ciò che succederà Molto spesso creiamo una storia partendo dal finale o partendo da un punto di svolta del personaggio che subisce nel corso della storia Ma il mondo ordinario è fondamentale Prendiamo ad esempio Breaking Bad In Breaking Bad, l'evoluzione del personaggio di Walter White è particolarmente interessante da vedere per l'ospedatore perché abbiamo avuto modo di toccare con mano il mondo ordinario Vedere Walter White che si trasforma in questo personaggio privo di regole e completamente superbo e minaccioso ha particolare valore quando lo andiamo a confrontare al Walter White iniziale a quello del mondo ordinario al professore remissivo a colui che viene preso in giro da Hank a colui che fa due lavori ed è costretto a sopportare le angherie del capo Ed è qui che vediamo la divisione un Walter White che trova il suo habitat naturale nel mondo ordinario e un Heisenberg che trova nel suo habitat nel mondo dell'avventura nella chiamata all'avventura quindi in un primo momento si va a specificare quale sia questo mondo ordinario ed è importante definirlo in base al tipo di viaggio che farà il nostro protagonista potrebbe essere un viaggio fisico potrebbe essere un'evoluzione psicologica potrebbe essere una relazione potrebbe essere qualsiasi cosa ora nel corso di questo video utilizzerò Harry Potter e il Signore degli Anelli come elementi di paragone non tanto perché le altre opere non siano confrontabili con il viaggio dell'eroe ma perché essendo le due opere su cui trattano la maggior parte degli argomenti del mio canale sono quelle che probabilmente sono più fresche nella vostra memoria quindi qual è il mondo ordinario di queste opere? in Harry Potter chiaramente Private Drive la storia ha origine nel suborgo inglese di Private Drive ci viene mostrata la vita quotidiana di Harry costretto a subire superusi da parte dei suoi zii e del suo cugino e vediamo fondamentalmente un bello straccio di storie dedicato proprio a questa quotidianità perché dobbiamo conoscere questa quotidianità per generare all'interno del lettore lo stesso desiderio di escapismo che poi troveremo all'interno di Harry inoltre il mondo ordinario va a caratterizzare psicologicamente e fisicamente lo stesso Harry Harry nel corso della storia riuscirà a empatizzare con personaggi come Dobby perché lui stesso ha vissuto l'esperienza di essere maltrattato dagli altri o avrà un senso di avversione nei confronti di personaggi che si mostrano superbi e trattano gli altri come pezzi come Draco Malfoy perché in lui rivedrà Dudley quindi questo è il mondo ordinario nel mondo di Harry Potter nel primo libro mentre ad esempio nello Hobbit è la Contea in mondo ordinario Bilbo viene spinto verso l'avventura ma lui originariamente vive nella Contea vive in casa Baggins e ci viene mostrata la sua quotidianità fatta di agio fatta di pigrizia anche perché no quindi qualcosa che si contrappone letteralmente al mondo che vedremo di lì a poco una volta definito il mondo ordinario arriva il secondo elemento del viaggio dell'eroe ovvero la chiamata all'avventura il protagonista che si trova nel suo mondo ordinario riceverà la proposta o la spinta verso un'avventura e la chiamata all'avventura è una cosa abbastanza universale basti pensare a Star Wars basti pensare a ogni genere di opera fondamentalmente in Harry è l'arrivo di Hagrid in Bilbo è l'arrivo di Gandalf e della compagnia di Thorin che gli propongono il viaggio verso la montagna solitaria o Hagrid che gli propone di andare a Hogwarts quindi qualcosa che spacca la vita quotidiana è che spinge il protagonista verso l'avventura che lo aspetta ma questo viaggio non è ovviamente immediato perché il terzo elemento che scopriamo all'interno del primo atto è il rifiuto della chiamata ovvero il protagonista non accetta immediatamente di viaggiare ma avrà un moto di rifiuto molto spesso che può essere giustificato in diversi modi Bilbo ad esempio non vuole partecipare al viaggio della compagnia di Thorin verso la montagna solitaria e il rifiuto si concretizza nella lezione massima colui che non si sveglia la mattina e rischia di perdere il viaggio della comitiva allo stesso modo Harry non accetta immediatamente la realtà di essere un mago ha un moto di rifiuto e nonostante Hagrid stia parlando a un po' di tempo gli spieghi di come lui stia un mago e come i suoi genitori fossero dei maghi Harry che è caratterizzato da una profonda insicurezza immediatamente dice a Hagrid che probabilmente si è sbagliato e che lui non può essere un mago quindi ha bisogno di una rassicurazione ha bisogno di una spinta perché è proprio qui che spesso entra un quarto elemento ovvero il mentore il mentore è colui che spesso spinge il protagonista verso l'avventura o che lo inizia a questo viaggio Gandalf spinge Bilbo verso l'avventura Hagrid nonostante non sia il mentore classico che poi è un role che verrà assunto da Silente andando avanti Hagrid stesso rappresenta in un primo momento una figura di mentore perché a questo punto il protagonista dovrà essere spinto ma dovrà fare la scelta consapevole di superare la prima soglia altro elemento del viaggio dell'eroe deve essere il protagonista a fare questa scelta perché il protagonista non è una vittima degli eventi ma l'azione deve essere messa in moto da qualcosa che fa o pensa il protagonista quando si parla di mentore l'immagine che ci viene spesso in mente è quella del classico anziano dello stregone di Merlino con Artù di Silente con Er di Gandalf con Frodo e con Bilbo perché è un archetipo molto utilizzato ma questo non vuol dire che debba necessariamente avere questo ruolo qui perché è un vecchio saggio solitamente il mentore perché nella nostra realtà e nella nostra cultura risuona il fatto che quando si cerca una direzione quando una giovane persona cerca una direzione si rivolge a una persona più anziana è sempre stato così magari questo paradigma è un po' cambiato nel corso degli anni ma in passato ad esempio il capo del villaggio l'anziano del villaggio era considerato la persona più saggia era la persona a cui ci si rivolgeva per avere insegnamenti e per sapere che strada si deve percorrere naturalmente questo non vuol dire che debba essere per forza un uomo alto con la barba bianca, i capelli bianchi e il cappello a punta non è necessariamente detto che sia così anzi a meno che non sia giustificato a fine della storia utilizzare questo archetipo nella sua forma più base ovvero quella di Merlino non fa altro che creare un cliché però naturalmente di questo ne parleremo magari meglio in seguito faremo sicuramente un video dedicato proprio alla figura del mentore e vedremo anche in seguito come il mentore possa essere una figura lontana da questa immagine tipica ma andiamo per i gradi è anche interessante ricordare che all'interno di una storia ci possono essere più mentori e soprattutto è bello vedere quando i diversi personaggi all'interno di una storia trovano mentori diversi ad esempio in Harry Potter Harry identifica come mentore Silente ma ad esempio Neville identifica come mentore la pomona sprite l'insegnante di robologia o ancora una lavanda identifica come mentore Sibyla Koeman con cui crea un legame quindi diversi personaggi in base alle loro inclinazioni identificano mentore in diversi insegnanti in questo caso un altro esempio che mi viene da fare è One Piece One Piece all'epoca del famoso Timeskip vedeva come diversi personaggi della Shulma diversi Nakama andavano a identificare diversi mentori ad esempio Luffy trovava un mentore in Ray League e dall'altra parte abbiamo Nozoro che trova un mentore in Niok quindi nel senso è interessante vedere come l'allievo trova il maestro in questo senso il primo atto quindi contiene fondamentalmente questi elementi il superamento della prima soia e la scelta del protagonista di fare questo viaggio solitamente è ciò che permette di passare dal primo atto al secondo atto a quello centrale il secondo atto è quello più corposo ma è anche quello più difficile da identificare è più difficile da creare dei singoli spunti perché è l'atto in cui devi essere più elastico e devi sviluppare la maggior parte della storia solitamente questo atto inizia in un punto e finisce in un altro il punto di inizio solitamente è un ambiente in cui il protagonista verrà messo alla prova all'interno ad esempio dei western è il saloon in cui all'improvviso il protagonista si ritrova fuori dalla propria quotidianità e assiste ai primi pericoli del mondo in cui sta viaggiando e viene messa alla prova la sua tempo il suo carattere e il suo coraggio o potrebbe essere, non lo so, la classica scena di una campagna Dungeon Dragons in cui si trovano in una taverna o ad esempio nel caso di Harry Potter è Diagon Alley il primo luogo che rappresenta una sfida per Harry è proprio Diagon Alley perché? non perché sia un luogo pericoloso ma perché rappresenta le sfide che poi dovrà affrontare un bambino di 11 anni, un ragazzino di 11 anni al momento in cui arriva in una nuova scuola quindi Harry e Diagon Alley tocca ciò di cui ha maggior paura tocca il bullismo quando incontra Draco e tocca la paura di non essere abbastanza di essere indietro rispetto ad altri che è una delle paure più comuni in assoluto per qualsiasi bambino io personalmente ricordo che ogni volta che andavo a scuola in particolare quando dovevo cambiare scuola perché io ho frequentato tre scuole elementari diverse ogni volta avevo il terrore, ingiustificato e illogico che il primissimo giorno di scuola mi interrogassero di fronte a tutti questa però non è che la prima sfida quindi è necessario affrontare una serie di sfide magari non necessariamente crescenti in ordine di difficoltà perché non è necessariamente un videogioco in cui ogni miniboss è più forte di quell'altro ma di sfide diverse che mettono a dura prova il protagonista che gli permettono di incontrare gli alleati che porterà avanti nel corso della sua storia e i nemici, affrontare e toccare con mano la prima forma dei nemici tutti questi incontri ed eventi andranno poi a concludersi con l'avvicinamento alla caverna più profonda la caverna più profonda è la minaccia finale l'ultima grande battaglia che deve affrontare il protagonista c'è una pausa in cui il protagonista o i protagonisti cercano di capire come muoversi scogitano piano per capire come affrontare quest'ultima grande minaccia e poi l'affrontano la caverna più profonda è caratterizzata dal fatto che in questo momento ci sarà il punto più basso per il protagonista il protagonista infatti deve morire o arrivare vicino alla morte per poter rinascere nella sua vittoria infatti molto spesso è il momento di maggior pathos all'interno di una storia un momento in cui i lettori o gli spettatori trattengono il fiato perché non sanno effettivamente cosa succederà a quel protagonista ad esempio vediamo un Frodo che non riesce ad andare avanti di fronte a Montefato perché l'anello è diventato troppo pesante vediamo un Henry che viene imprigionato da Raptor con le sue corde insomma fondamentalmente è un momento di massimo cordoio massima difficoltà per poterla superare e affrontare il nemico un'ultima volta dato che ti ho parlato di diversi elementi e ti ho fatto come esempio il signore di anello di Harry Potter l'immagine che potresti avere del viaggio dell'eroe è che è un particolare tipo di schema dedicato in particolare alle storie epiche fantasy in cui c'è un cavaliere che deve salvare la principessa dal drago d'oltronde il viaggio dell'eroe ma questo non è necessariamente vero infatti questo schema narrativo può essere applicato a ogni genere quasi ogni genere a te nella cosa umoristica e magari alcuni tipi di thriller di storia e per farti un esempio per concreto prenderò qualcosa di più lontano possibile da un'opera epica fantasy ovvero una commedia romantica ti porto ad esempio il film Yes Man di Jim Carrey e farò diversi spoiler quindi se non hai visto questo film e hai intenzione di vederlo ti consiglio di schippare al punto successivo che puoi trovare qui Yes Man in film di Jim Carrey basato liberamente sul romanzo originale vede come protagonista un Jim Carrey appunto che vive la vita in un profondo stato di commiserazione di rifiuto, di abnegazione è una persona che dice di no a tutto non frequenta gli amici passa le serate guardando film a noleggio non facendo mai nient'altro insoddisfatto del suo lavoro incapace di superare la sua vecchia relazione ormai finita da tempo e per questo motivo quello è il mondo ordinario il mondo ordinario quindi è un mondo che crea in soddisfazione nel protagonista sebbene lui non lo riconosca come tale ora non è necessariamente vero che il mondo ordinario debba essere negativo e quindi che il viaggio rappresenti una fuga per il protagonista d'altronde Bilbo stava benissimo nella contea prima del viaggio con Gandalf quindi non è necessariamente vero però spesso viene utilizzato per dare maggiore enfasi al viaggio stesso quindi il viaggio di Jim Carrey all'interno di quest'opera non è un viaggio fisico da un punto A a un punto B ma è più un viaggio psicologico un'evoluzione caratteriale del personaggio e un viaggio romantico nella relazione che andrà a instaurare quindi abbiamo visto il mondo ordinario deve arrivare la chiamata all'avventura e la chiamata all'avventura arriva nel ruolo del mentore che assume due volte all'interno di questa storia il primo è quello di un suo amico che sembra all'inizio un po' fuori di testa che gli chiede se vuole spaccare una vetrata di una banca e poi ci tira un sasso contro che lo avvicina al mondo degli Yes Men questa convention, questo convegno in cui viene portato avanti questa dottrina di dire sì a tutte le occasioni della vita e come ogni buona chiamata dell'avventura abbiamo il rifiuto del personaggio il quale non vuole andare rifiuta da andare sembra che non ci vada fino a che non ha un incubo terribile e decide di muoversi in quella direzione naturalmente ci va senza essere perfettamente convinto non è che cambia dall'oggi al domani arriva lì con un certo scetticismo fino a che non appare la figura del mentore vero e proprio che è il capo di questo movimento che lo costringe a fare un giuramento che lo spinge verso l'avventura e che lo aiuta a superare la prima soglia quindi il primo atto è questo il secondo atto è tutta la serie di occasioni in cui il protagonista dirà di sì che lo porterà a conoscere questa ragazza a instaurare una relazione amorosa con lei fino ad arrivare alla caverna più profonda e la caverna più profonda di una storia di questo tipo quale può essere? naturalmente è la domanda più difficile a cui rispondere sì in particolare la ragazza gli chiede se vuole andare a vivere insieme ed è una domanda che gli mette paura e lui dice sì ma paga il prezzo perché deve arrivare il momento di più basso nella storia del protagonista in cui lei scopre questa dottrina di fondo e non può più fidarsi del protagonista perché tutte le cose che ha fatto non l'ha fatta di sua iniziativa ma perché è costretto da questa filosofia e quindi lo lascia e questo è il momento più basso del protagonista il momento di morte da cui deve risorgere per raggiungere il vero cambiamento dopo questo evento il protagonista sconfigge il nemico e poi c'è il lato finale l'atto finale è praticamente rappresentato dal viaggio di ritorno il quale solitamente viene rappresentato in modo abbastanza movimentato spesso i nemici cercano di dare un colpo di coda dopo la sconfitta finale ottenuta nell'atto principale e abbiamo un'altra battaglia in cui di nuovo il protagonista rischia di morire fondamentalmente o rischia di perdere tutto fino a raggiungere di nuovo il mondo ordinario con il suo premio con l'Elisir questo cosa vuol dire? che il viaggio ciclico che lo riporta al mondo ordinario dopo tutto ciò che ha sperimentato ha avuto significato solo se lui porta con sé al momento del ritorno qualcosa che ha ottenuto durante questo viaggio può essere qualcosa di fisico l'anello di Bilbo può essere qualcosa di psicologico una crescita personale una nuova prospettiva un tesoro un Elisir per curare qualcuno una pozione magica qualsiasi cosa ma deve avere imparato qualcosa deve avere ottenuto qualcosa da questo viaggio altrimenti il viaggio in sé è stato abbastanza puerile poi questo non vuol dire che il personaggio necessariamente debba cambiare sempre però qualcosa deve ottenere dal suo viaggio questo in breve è il viaggio dell'eroe ora come vi ho detto in precedenza avete piena libertà di scegliere quali di questi elementi applicare e meno sappiate che utilizzare questo tipo di narrativo questo tipo di struttura soprattutto se non sapete costruire una storia e vi trovate persi perché mai riscrivete di getto avete un'idea di partenza scrivete una ventina di pagine e poi non sapete come andare avanti è un ottimo modo per creare una storia che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine poi una volta che avrete imparato come gestire questa struttura potrete decidere quali elementi vengono inclusi e quali elementi non vengono presi nella vostra storia d'altronde non tutte le storie devono avere un'evoluzione del personaggio non tutte le storie devono avere un mentor non tutte le storie devono risolversi con le atta fine non tutte le storie devono concludersi con il ritorno al mondo ordinario ogni storia è diversa e unica a sé stante però conoscere questa struttura secondo me è sempre meglio è sempre meglio sapere qualcosa in più che qualcosa in meno è sempre meglio scegliere attivamente quando non seguire uno stilema o uno schema narrativo perché lo vuoi fare e non perché non hai idea di quello che stai facendo detto questo spero di avervi dato un'idea fondamentalmente di questo viaggio è molto più complesso ovviamente c'è un intero libro io ve l'ho spiegato nel giro di mezz'ora che poi di tata sarà una ventina di minuti di video quindi chiaramente l'ho fatto in modo molto sintetico però in futuro potremo affrontarlo di nuovo magari concentrandoci su determinati elementi di questo viaggio parlando ad esempio dei punti di svolta parlando del mentor parlando del superamento della prima soia di quello che volete e in generale se avete qualche desiderio di sapere qualcosa di voler analizzare qualche elemento della narrativa e della scrittura all'interno di questa serie di video fatemelo sapere nei commenti e cercherò di accontentarvi il più possibile ho diversi manuali diciamo che nei miei video fondamentalmente mi baso sulla mia esperienza personale sul corso che ho frequentato alla scuola internazionale di comics e su una serie di libri che ho comprato vi faccio vedere un po' di titoli da cui attingo per farvi capire che non sto dicendo cosa a caso abbiamo il libro di Linda Seger come scrivere una grande sceneggiatura abbiamo storie di McKee che è praticamente considerato obbligatorio in termini di scrittura scrivere fumetti e graphic novel di Peter David ovviamente Anatomia di una storia di Truby e poi abbiamo Christopher Vogler con Il viaggio dell'eroe qui abbiamo anche questo che è una lettura obbligatoria per chi si avvicina alla scrittura del fumetto per capire comunque il fumetto ovvero capire e fare reinventare il fumetto di Scott McLeod e continuerò a comprare nuovi manuali continuerò a studiare naturalmente non mi baso solo su questi vado a leggermi trattati, vado a leggermi discussioni di vari tipi e specialisti che ne parlano ad esempio proprio sull'utilizzare il meno il viaggio dell'eroe sull'obbligo di utilizzare il viaggio dell'eroe diverse persone si esprimono in modo diverso ci sono alcuni che considerano questa struttura imprescindibile ci sono altri che invece la odiano perché appiattisce un pochino l'estero creativo delle persone o perché molto spesso ci sono alcuni che considerano un'opera non funzionale se questa non segue la struttura del viaggio dell'eroe cosa su cui non sono assolutamente d'accordo nell'espressione dell'arte puoi fare quello che ti pare fondamentalmente nei limiti della legalità ma in realtà l'arte supera anche quelli ma io non vi consiglierò mai di violare la legge per fare arte però insomma tutto fa come diceva quello che pisciava Nardo grazie mille per aver visto questo video spero che vi piaccia è il primo video di questa serie un pochino più tecnica un pochino più dettagliata quindi spero di non essermi sbrodolato troppo ci vediamo presto con un prossimo video buona 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 buona